Inventare i titoli dei miei video sta diventando veramente complicato e sempre più difficile. Il titolo di oggi è una mezza provocazione, perché so che tanti di quelli che guardano i miei video godono dei miei insuccessi. L'unico problema è che sono molto rari, quindi non godono molto, anche se c'è qualcuno che dice che non ne azzecco una. Benvenuti su Investire con Gus. Oggi consueto appuntamento con l'analisi dei miei portafogli di Toro. Agosto è stato veramente un mese particolare, molto interessante. Ci sono stati alti, molto alti e bassi, molto bassi. A un certo punto il portafoglio stava performando veramente malissimo, principalmente per il tonfo di Tattooed Chef, che è stato molto pesante per il mio portafoglio, perché Tattooed Chef era la posizione più grossa, la prima posizione, ed era veramente parecchio grossa, perché valeva più o meno il 14% del portafoglio, se non sbaglio. Quindi questo crollo è stato un bel colpo. Però poi, come vedete, le azioni sono risalite con forza veramente incredibile e il portafoglio ha recuperato. Però è inutile perderci in chiacchiere inutili. Vi dico anche che invece il secondo portafoglio sta avendo una performance veramente pazzesca. Non mi aspettavo potesse fare una performance di questo tipo, ma tra un po' ve la mostrerò. Quindi è inutile perderci in chiacchiere, andiamo direttamente ad analizzare i miei due portafogli di toro. Oggi voglio che scriviate nei commenti qual è stata la vostra performance da inizio anno. Scrivete se mi state battendo, se state avendo una performance migliore della mia, oppure no. E già che ci siete, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi se siete nuovi. La performance che vedrete oggi arriva fino al 31 agosto, quindi non prende in considerazione alcun giorno di settembre. Questa volta sono stato bravo e ho fatto un bello screen il 31 agosto. La performance del portafoglio investire con GUS7 è stata del 21,47% da inizio anno. Quindi sì, per la prima volta, penso sia il primo mese, questo portafoglio sta sottoperformando il mercato americano, lo Standard & Poor's 500. Infatti quest'ultimo, da inizio anno, ha avuto una performance del 22,2% al 31 agosto. Quindi purtroppo abbiamo perso un po' di terreno. Però non demordiamo, siamo appena all'inizio, sono passati pochi mesi della creazione di questo portafoglio che è stato creato nel 2020 a fine anno. Quindi è troppo presto per valutarlo e ci sono ancora diverse posizioni che non hanno ancora dato i loro frutti, che non hanno neanche iniziato a mostrare i denti, gli artigli. E poi c'è il problemone di cui vi parlo sempre, cioè il fatto che, avendo accesso a pochissimi strumenti sui toro, mi trovo sempre in difficoltà con l'allocazione del capitale. Infatti ho il 21,69% in cash al 31 agosto. A settembre ho fatto qualcosina, però probabilmente pubblicherò un altro video in cui vi spiegherò quello che ho deciso di fare a settembre. Però da inizio anno fino ad agosto mi sono ritrovato veramente con sempre tanto cash, troppo cash. Quindi questa performance, diciamo che sì, è reale ovviamente, stiamo sottoperformando, però è un po' fregata dal fatto che abbiamo questo 21% del portafoglio in cash. E io, come sapete, odio detenere cash in portafoglio. Sono scuola a Peter Lynch, mi piace investire tutto quel che ho e addirittura di più, sono un po' più aggressivo di Peter Lynch, mi piace utilizzare il margine per investire un po' di più rispetto a quello che ho. Quindi voliente o non voliente questa situazione sta avendo un impatto abbastanza importante, negativo, sul portafoglio. E mi rode parecchio detenere tutto questo cash, soprattutto adesso che c'è una discreta inflazione che va a mangiare il valore del mio cash. Quindi continuo ad impegnarmi a cercare nuove azioni, però sicuramente non vado ad investire tanto per, non vado ad investire giusto perché ho questo cash e lo voglio utilizzare. Investirò soltanto in azioni in cui credo veramente. Perciò questa situazione potrebbe perdurare. Spero di no, spero di essere in grado di trovare delle azioni interessanti. Ne ho parecchie in watchlist che devo ancora analizzare. Sto continuando a trovare azioni interessanti che però non ci sono sui toro. Ne ho almeno tre di cui ho parlato nel gruppo Discord che non trovo sui toro, che non ci sono sui toro. Quindi non avrei alcuna difficoltà ad allocare tutto questo capitale, però con la situazione che i toro non fornisce tanti strumenti, la situazione purtroppo è questa. Ok, ma allora invece vediamo le posizioni che ho e devo fare una piccola analisi di questo portafoglio perché penso di aver fatto degli errori. Adesso guardiamo tutte le posizioni e poi alla fine vi dico qual è l'errore che penso di aver fatto su questo portafoglio. La prima posizione come vedete è Corsair che vale il 12,8% del portafoglio e siamo in perdita del 10%. Questa perdita sinceramente non mi preoccupa, sono abbastanza tranquillo su Corsair. Corsair non non sarebbe la mia prima scelta. Nel mio portafoglio privato è una posizione piccolina, molto piccolina, ininfluente, perché penso che ci siano società con un risk reward, soprattutto un reward migliore, perché il rischio in Corsair secondo me è molto ma molto basso. Penso sia molto difficile perderci soldi da qua a 5 anni. Però il reward è inferiore rispetto ad altre azioni che ho in portafoglio, quindi nel mio privato è una posizione molto piccola perché continuo a trovare azioni che preferisco rispetto a Corsair. Però qua sui toro è una delle migliori, una delle più interessanti ed è la prima posizione perché, come vi dicevo, il rischio è molto basso. Avrei voluto che la prima fosse Dropbox, però vi ho già spiegato mille volte che ci sono stati delle difficoltà e non sono riuscito a mantenerla come prima posizione più grossa. Quindi poi abbiamo in seconda posizione Dropbox che vale il 12,42% del portafoglio e qua, a differenza di Corsair, stiamo guadagnando un 68% circa. Questa è una posizione che non ho la minima intenzione di chiudere, anche se il guadagno è ottimo, perciò resta qua. Poi abbiamo Tattooed Chef, di cui vi ho parlato un po' prima, e vale l'11,82% del portafoglio. Gli osservatori attenti si accorgeranno che ho ridotto un pochino questa posizione. Perché? Perché mi sono reso conto che era troppo grossa, non potevo avere il 14% del portafoglio in una società come Tattooed Chef, che è molto giovane e quindi potrebbe affrontare dei momenti di grossa difficoltà, dei momenti di alta volatilità sull'azione. Quindi ho deciso di ridurre un pochino la posizione, l'ho ridotto dal 3-4%. Ci tengo a precisare che ho ridotto la posizione quando eravamo già in guadagno, quindi non abbiamo perso soldi su Tattooed Chef. Poi in quarta posizione abbiamo Regeneron, che sta performando veramente molto bene. In pochi mesi siamo in guadagno del 35%, e questa vale il 7,69% del portafoglio. Regeneron aveva raggiunto una valutazione veramente imbarazzante, perciò ci ho investito. Anche se normalmente non vado matto per l'investimento in società Biotech, anche se come sapete qualche volta ci investo, come con Biogen, che alla fine avevo chiuso, come sapete. Poi abbiamo Tor Industries, che vale il 7,60% del portafoglio e stiamo guadagnando un onesto quasi 4%. Qualcuno mi ha detto che sono un pazzo ad investire in società così cicliche, col mercato ai massimi. Secondo me questa sua tesi, chiamiamola così, non ha senso perché Tor si è molto ciclica, però è in una situazione veramente ottima. c'è un backlog pazzesco, quindi la società ha una domanda, viene colpita da una domanda dai clienti veramente pazzesca, quindi sono molto tranquillo. E poi penso che sia una giocata neutrale sulla situazione pandemica, perché se la situazione pandemica dovesse tornare come era lo scorso inverno, quindi dovesse peggiorare, tante persone probabilmente per poter viaggiare comprerebbero un camper. Però, anche se la situazione pandemica non peggiorasse e quindi l'economia rimanesse stabile, potrebbero voler comprare un camper. E non vedo grossi rischi per l'economia, non penso che siamo al picco di un qualsiasi ciclo, ma anzi penso che siamo appena all'inizio di un periodo di più o meno boom economico, come vi avevo detto in un video. Poi abbiamo la nostra Salesforce, che ho recentemente analizzato sul canale, e siamo in guadagno del 19,47%, questa vale il 7,5% del portafoglio, ed è una società che non aveva ben che minima intenzione di vendere, anzi sono contentissimo di tenerla e se dovesse tornare ai livelli del mio primo acquisto probabilmente la renderai in una posizione più grossa, visto il cash che ho a disposizione. Poi abbiamo Facebook, e vale lo stesso identico discorso che ho fatto per CRM. Poi abbiamo la nostra Sprouts, che è una posizione molto tranquilla, una Value, che dà un po' di stabilità al portafoglio, questa vale il 5% del portafoglio, una posizione piccolina, però stiamo guadagnando abbastanza bene, un 24%. Poi abbiamo VBA, un'altra azione Value, che mi piace moltissimo, penso abbia veramente un bel potenziale, purtroppo vale solo il 5% del portafoglio, anche questa avrei dovuto renderla un pochino più grossa, avrei dovuto prendere una posizione più grande, mea colpa, ho sbagliato io. Poi abbiamo Posh, di cui invece sono contento della misura della posizione, perché è una posizione, no, non la definirei speculativa, però è un'azione Growth ancora giovane, che potrebbe avere dei momenti molto difficili, come sta avendo al momento, infatti siamo a meno 20%, quindi voglio essere un po' conservativo, un po' voglio proteggermi su questa posizione, non voglio ritrovarmi con una posizione che vale il 10% a meno 50%, quindi per il momento la size della posizione resterà questa, non ho intenzione di incrementare, però se magari crollasse ancora un po', potrei pensare di incrementare, anche se lo escludo, perché, come dicevo, sono abbastanza contento della grandezza della posizione. Ok, quindi questo è il portafoglio, adesso voglio un attimo analizzare la situazione, voglio dirvi quali sono gli errori che ho fatto su questo portafoglio. Il primo errore è che ho gestito malamente alcune posizioni, ad esempio Facebook, Sprouts e Walgreens, probabilmente sarebbero dovute essere posizioni più grosse, sono troppo piccole, avrei dovuto prendere posizioni più coraggiose, non ricordo bene perché l'avessi fatto, mi ricordo che per Facebook il problema era che in quel momento non avevo soldi e purtroppo sono schizzato al rialzo subito dopo il mio acquisto, adesso siamo in gain del 40%, quindi non ho avuto il tempo di caricare la posizione. Quindi questo è il primo errore, un po' di timidezza nella costruzione delle posizioni, adesso mi ritrovo con tutto questo cash di cui non so cosa fare. Quello che considero un altro errore è stato il prendere una posizione troppo grossa in Tattooed Chef, probabilmente spinto dal fatto che avessi tutto questo cash e che sentissi il bisogno e la necessità di utilizzarlo. Questo è stato un errore, anche se ci abbiamo guadagnato con questo errore, però sì, diciamo che non mi va di prendere posizioni troppo enormi su posizioni un pochino pericolose. Diciamo che potrei sentirmi di prendere posizioni molto grosse in società come Dropbox, che sono Value Growth, quindi società già abbastanza consolidate, che però crescono ancora e che raggiungono una valutazione molto conveniente, molto in sconto. Perciò Gus, per le prossime volte costruisci posizioni più grandi se hai un'alta convinzione nelle tue azioni e stai attento a non costruirne di troppo grosse in società magari più rischiose, in azioni più rischiose. Spero che i copiatori mi perdonino e li avviso già che probabilmente in questo portafoglio farò altri errori perché sto ancora imparando a gestirlo. Il mio portafoglio su DeGiro è completamente diverso da questo, lo gestisco in maniera totalmente diversa, quindi sono ancora in una fase da principiante, sono quasi un principiante sul portafoglio di toro perché lo devo gestire in maniera abbastanza diversa rispetto al mio. Quindi sto ancora imparando, ma pian pianino vi prometto che migliorerò e le performance miglioreranno. Spero che mi darete comunque la vostra fiducia. E adesso invece la parte migliore, il portafoglio investire con Gus. Questo sta andando veramente bene, siamo a più 24,46% e la cosa più bella è il fatto che i drawdown sono veramente bassi. È praticamente sempre verde questo portafoglio. Quindi sono molto contento, sta andando meglio di qualsiasi mia aspettativa e adesso andiamo a vederlo. La prima posizione qua è CRM, Salesforce, e stiamo guadagnando il 21%, la posizione vale il 12% del portafoglio. Questa è l'unica posizione in questo portafoglio a valere più del 10% e c'è un motivo per cui vale così tanto, perché è una posizione in cui ho tantissima convinzione, come avrete capito guardando il video in cui l'ho analizzata. In seconda posizione abbiamo Northrop Grumman, che è una società militare, su cui guadagniamo il 27%, veramente molto bene. Poi abbiamo AMD, su cui stiamo guadagnando il 42%. Questa è stata forse la posizione meglio performante considerando il tempo di investimento, perché la posizione che ha la performance migliore è JP Morgan. In questo portafoglio le posizioni non resteranno tutte fisse, non terrò tutte queste azioni per sempre, però alcune sì. Una è CRM e un'altra è sicuramente AMD, una società che ha un'azione che non ha la benché minima intenzione di vendere. Poi abbiamo anche qua Regeneron, su cui guadagniamo il 34%. Poi abbiamo Square, altra posizione che a lungo termine può essere veramente interessante, che forse non venderò mai. E qua guadagniamo il 30%. Poi abbiamo Euronext, il nostro bel monopolio, che guadagna il 23%, veramente una performance ottima, che non mi aspettavo assolutamente da questa azione. Non pensavo di poter fare una performance così forte in così poco tempo, perché ci abbiamo investito veramente da due o tre mesi, se non sbaglio. Poi abbiamo Lockheed Martin, colosso militare, la migliore, la più grossa società nel settore militare. E questa vale il 5,86% del portafoglio. È un po' timida per adesso, però ho grande fiducia a lungo termine e questa potrebbe essere una posizione che non venderò mai. Ma vedremo, non ne sono così certo. Poi abbiamo Qualcomm, semiconduttori. Qua guadagniamo il 10,4%. Poi abbiamo di nuovo una società che si occupa di semiconduttori, cioè Taiwan Semiconductor. E questa vale il 5% del portafoglio. E anche questa è un pochino timida. Non sta facendo una performance incredibile, però un onesto 5% lo fa. Poi abbiamo Pfizer, che la conosciamo tutti, soprattutto i maschietti. Non so se avete capito la battuta. Questa sta andando veramente molto bene. Guadagniamo il 31,5%. Poi abbiamo Tyson Foods, su cui guadagniamo il 20%. Questa è una posizione che mi piace molto. Tyson Foods è una bella società. Poi abbiamo Viacom, società media di cui vi avevo parlato in un altro video. Questa è una valutazione veramente pazzesca. Mi pare che il P.E. sia intorno a 5%. Quindi la valutazione è veramente da value stock. E sta andando abbastanza bene. Guadagniamo il 7%. Poi abbiamo Micron, che questa è una posizione molto interessante, perché siamo in perdita. Nonostante il settore dei semiconduttori sta andando veramente fortissimo, Micron sta laggando in maniera considerevole. Ed è una posizione interessante, è una bella società. Probabilmente il mercato è spaventato dal fatto che storicamente questa sia una società incredibilmente ciclica nei suoi risultati. Va incontro a periodi fortemente espansivi e periodi pessimi. Molto brutti, di peggioramento forte dei risultati. Perciò sarà interessante seguirla. Secondo me la valutazione è interessante. Il price earning forward è veramente molto basso, quindi potrebbe essere un'ottima occasione. Poi abbiamo CVS, su cui stiamo guadagnando il 27%. Sta andando piuttosto bene, è un'azione che ritengo sottovalutata, ma diciamo che non mi fa impazzire, non è la mia preferita del portafoglio, ma essendo sottovalutata la tengo. Poi abbiamo Facebook, su cui guadagniamo il 40%, e qua ancora mi mangio le mani per aver costruito una posizione vergognosamente piccola, 3%. Non so cosa pensavo in quel periodo, probabilmente non avevo soldi, però è vergognoso che io abbia costruito una posizione così piccola, perché Facebook doveva valere almeno il 10% di questo portafoglio. Vergognosa la mia scelta. Poi abbiamo Spotify, su cui perdiamo l'11%, è una posizione abbastanza piccolina. Poi abbiamo Discovery, che è come sempre la nostra peggiore posizione, ormai è un must. Se un giorno vedrò Discovery verde, probabilmente sarà uno shock incredibile. Però è comunque un'azione molto interessante, perché è una società media che sta creando un servizio streaming, ha già creato in realtà, un servizio streaming molto interessante, che piace alle persone e che sta crescendo molto. Qui abbiamo GlaxoSmithKline, che fa un più 15%, buona performance. Infine abbiamo la nostra posizione che performa meglio, che è JP Morgan e al momento vale il 3%, e siamo in guadagno del 53%. Questo è il portafoglio, e vi ricordo che è il portafoglio al 31 agosto, perché qua ci sono stati degli importanti cambiamenti negli scorsi giorni, ma ve ne parlerò in un video dedicato. Anche nell'altro portafoglio, in Investire con Gus7, c'è stato di recente un cambiamento, di cui vi parlerò anche in quel video. Per questo video è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se vi piacciono le mie posizioni e fatemi sapere come stanno performando i vostri portafogli. Lasciate un mi piace, iscrivetevi e condividete il video con tutte le persone che conoscete. Fino al prossimo video, buoni investimenti a tutti. Ciao!